Vi sarà capitato di dover connettere dei device in VPN ma non abbiamo un firewall oppure non abbiamo accesso a quel firewall perché non siamo noi a gestirlo oppure semplicemente dobbiamo mettere in condizioni un utente da casa per collegarsi in desktop remoto a un server o un altro computer e senza dover ricorrere a soluzioni costose e senza aver bisogno di chiedere a nessuno un accesso possiamo utilizzare ZeroTire. Infatti ci permette di collegare fino a 10 dispositivi nell'edizione completamente gratuita in VPN quindi andando a scaricare un semplicissimo client che esiste sia per Windows che per Android che per Linux potrete andare a collegarvi in VPN a quel dispositivo. L'operazione è veramente banale alla portata di chiunque per cui anche un utente autonomamente a casa, anche il cliente finale a casa potrà installare il programmino e connettersi. Vediamo come si configura e come si installa. Una volta che ci siamo registrati al sito ci troveremo di fronte a questa schermata. Qui bisogna semplicemente andare a creare una network, quindi clicchiamo Create a network. Come vedete vi verrà già creata un network ID e un nome. Possiamo crearne 3 nella versione gratuita, possiamo includere fino a 10 device. Quindi entriamo nella network che ci è stata creata, possiamo andargli a modificare il nome. Io lo chiamerò ad esempio Aizuki VPN e potremo andare a personalizzare delle impostazioni. Ad esempio possiamo andare a decidere quali IP assegnare automaticamente. Se andiamo ad esempio in avanzate possiamo dirgli di assegnare ad esempio questo indirizzo, quindi da 191 a 254. Possiamo andare a specificare delle impostazioni per l'IPv6 e se vogliamo un custom DNS. La nostra rete quindi è già pronta per andare a collegare eventuali dispositivi. Andrò a collegare il mio cellulare Android. Esiste un'app scaricabile dal Play Store. Cliccando semplicemente questo QR code si aprirà una pagina che potremo scansionare dal nostro cellulare, tablet che sia, per andare a connettere lo smartphone in VPN. Oppure possiamo andare a copiare e manualmente a scrivere questo network ID. Dalle impostazioni possiamo infatti decidere se questa network è privata o pubblica. Quindi chiunque sarà in possesso di questo ID di 16 cifre potrà effettuare il join. Impostandola come privata invece i membri verranno elencati qui e dovrete manualmente andarli ad abilitare, ad autorizzare. Ritorniamo nell'elenco delle nostre connessioni e vado a scaricare dal sito ZeroTier il client per Windows. L'ho già installato quindi ve lo mostro. È questo qua. Cliccando col destro basta fare join new network e andiamo a digitare il codice di 16 cifre. Quindi lo copiamo, lo incolliamo nell'app ZeroTier Desktop. Clicchiamo join, attendiamo un attimo e vedremo che se avevamo lasciato come impostazione private, qui tra gli elenco dei membri apparirà il mio PC. Andiamo ad aggiornare la pagina. Eccolo qua e come vedete non è autorizzato. Devo andarlo io manualmente ad abilitare. Infatti se clicchiamo col destro sull'app e andiamo a vedere lo stato che ci dice accesso negato perché infatti il tipo è privata. Lo vado quindi a selezionare, clicco autorizza, nel mio computer sarà pronto per essere, per far parte di questa VPN. Riaggiorniamo la pagina. E come vedete gli è stato già assegnato un IP della VPN e lo stato sarà sicuramente cambiato in connesso. Vedete, è stato ok e mi segna già azuki VPN. Quindi questo computer, come vedete in due clic, è stato inserito in VPN. Lo andiamo a fare su una macchina virtuale. Vado a scaricare quindi il mio setup. Che trovate sul sito Zero Tire. Facciamo l'installazione anche qua. Apparirà anche qui nella barra delle applicazioni l'icona di Zero Tire. Aspettiamo un attimo che vengano abilitati i servizi. Ed ecco qua che è pronto per effettuare il join. Quindi clicchiamo anche qui, join new network. Andiamo anche qui ad incollare l'ID di 16 cifre. Quindi lo copiamo e lo incolliamo in Zero Tire. Join. Aspettiamo che venga aggiunto e lo autorizzeremo. Eccolo qua. Quindi lo selezioniamo, clicchiamo authorize. E magicamente questi due device sono già connessi tra di essi in VPN. Di fatti andiamo a vedere l'IP che è stato assegnato a questa scheda. Vediamo infatti la connessione, vedete, Zero Tire 1. Clicchiamo dettagli e vediamo che abbiamo 192.168.191.202. Che effettivamente, se aggiorniamo la pagina, sarà quello che è stato assegnato ai membri. Eccolo qua. Quindi se noi andassimo a pingare quell'IP, vediamo che riusciamo a pingare la nostra macchina virtuale connessa in VPN. Vado un attimo a agganciare il cellulare. Anche il mio cellulare quindi è connesso. Clicca authorize. In quattro clic abbiamo creato una VPN tra tre device. Quindi dal cellulare potrei per assurdo accedere in desktop remoto a questo computer connesso in VPN oppure alla macchina virtuale. Ovviamente abilitando l'RDP. Andiamo ad esempio sulla macchina virtuale a linkare, a connettere un'unità di rete per scambiare dati. Se facciamo connetti unità di rete andiamo a digitare l'indizio IP della VPN assegnata al mio notebook. In questo caso 191.167, una cartella condivisa ad esempio ne ho una chiamata scambio, ne ho una specificare le credenziali e vedrete che ecco qua la nostra unità di rete è stata mappata. Quindi potrò scambiare file tramite la VPN in maniera molto molto semplice. Proviamo a fare una connessione desktop remoto 191.167. Sul mio portale c'è la connessione abilitata e come vedete mi vengono richieste le credenziali. Quindi il sistema funziona correttamente. Nella versione free come vi dicevo abbiamo 10 dispositivi. Se vogliamo creare più VPN, quindi nel caso in cui volessimo dividere queste VPN, queste reti tra diverse aziende, diversi luoghi anche a casa volendo, possiamo andare a creare una nuova network e andare a specificare quel network di altri client. Ne posso creare infatti quante ne voglio, come vedete vengono aggiunte in elenco. Con la versione a pagamento ovviamente non avete limiti nella creazione né dei device né delle network. Come vedete quindi senza nessun bisogno di accedere al firewall, creare port forward, aprire porte, possiamo collegare dei device di qualsiasi tipo a Zero Tire, per andarci quindi a connettere in maniera completamente sicura ad una VPN tra questi dispositivi. Se il video ti è piaciuto mi raccomando metti un mi piace, iscriviti al canale e attivate la campanella. Ciao e alla prossima.